Nella giornata di lunedì a seguito di una segnalazione vi abbiamo denunciato del ritrovamento all'ex discarica di Castelfirmiano di alcune carcasse di animali brutalmente decapitati. Nel dettaglio sono stati trovati conigli e galline con le teste mozzate e nonché il corpo mummificato di un gatto all'interno di un sacco nero di plastica. Una situazione che però si protrarrebbe da diverso tempo, così come ci conferma Gildo Guarise, privato cittadino che frequenta la zona in supporto ad un'anziana signora che gestisce la locale Colonia Felina. È successo che sono stati ritrovati degli animali morti in malo modo e gli hanno strappato la testa e gliel'hanno fatti ritrovare nei punti dove lei frequenta, dove ci sono le cassette di questi gatti. La signora è di una signora di una certa età, è in pensione, è facilmente impressionabile. Abbiamo trovato innanzitutto l'anno scorso una colomba senza testa con due monetine che penso che la persona che abbia fatto questo gesto sia abbastanza istruita. La testa è stata strappata ma le due monetine sono per pagare il viaggio, per attraversare il fiume infernale, per pagare Caronte e il traghettatore. Sempre l'anno scorso nella ricorrenza della festa della Repubblica, il 2 giugno, trattasi di una cassetta di uova che scadevano con la data di scadenza 2 giugno 2014 con 5 sacchetti grandi dell'immondizia. La signora ha chiesto l'intervento della Serba, ha chiesto l'intervento della Municipale, hanno fatto spallucce e la signora ha dovuto provvedere autonomamente a smaltire tutta questa immondizia. Il ritrovamento appunto dell'altro giorno è un altro segnale, secondo lei? Sì, allora prima del ritrovamento dell'ultima gallina decapitata, testa strappata anche questa, è stato ritrovato un gatto nero mummificato nella parte interna della colonia, in fondo nel bosco dove staziona un gruppo di felini. Anche questo è un ritrovamento anomalo, anche perché la zona viene pattugliata regolarmente ogni 10-15 giorni. È un ritrovamento casuale, non sappiamo chi è l'autore, ma a fronte di questo è stata ritrovata il 25 di aprile una gallina con la testa strappata. Dico strappata, primo perché si vede dalle fotografie, secondo perché la signora è rimasta talmente impressionata che ha portato il corpo del reato, l'ha portata da un veterinario di Appiano, di cui non faccio il nome per riservatezza, che ha confermato che non trattasi di un animale, non è stato un animale ad uccidere la gallina, ma è stata una persona che fisicamente ha strappato la testa del collo alla gallina. La cosa che hanno in comune tutti questi rinvenimenti sono il colore, il colore è bianco.